Che bello, che bello. Do you like Fiera Antiquaria? Certo. Incuriositi dalle rarità in esposizione a caccia di pezzi di antichità, modernariato e vintage, è la Fiera Antiquaria di Arezzo ad incantare tanti turisti stranieri a passeggio per le vie del centro storico. Cosa cercano i turisti? Ma in generale un po' tutto, arredamento insomma, niente di straordinario però. Sono loro che stanno mantenendo la Fiera. Però non è come quegli altri eventi che il turista magari spende, c'è un pochino più di riserva. Curiosito più che la ricerca di guardia? Curiosito, sì. Curiosito sì. Viene, guarda, ma si fede. In Piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino una grande varietà di oggetti d'arte, mobili, gioielli, orologi, libri, stampe antiche e chi più ne ha più ne metta. Frequentata oggi, anche visto che insomma il tempo mi sembrava anche abbastanza buono, nonostante quel pochino insomma di pioggia dell'ina, però sì, scorre bene, non è proprio l'Arezzo che conosciamo, però insomma oggi si è difesa, dai. Un'edizione, quella di agosto, quindi nel pieno dell'estate, quest'anno con numeri importanti, 200 gli operatori arrivati in città. Essendo un mese che tanti titolari non vengono, ora vengono tante persone che sono sportiste e allora poi mi trovo perché trovano posti vuoti, cioè i posti vuoti ce ne sono veramente giocci. Rispetto agli altri mercati sì, secondo me rimane sempre quelli più frequentati, ecco perché noi fino ad ora abbiamo fatto anche altri mercati, nel mese di agosto abbiamo visto una differenza notevole insomma e quindi sì, diciamo che siamo contenti.